buongiorno a tutti oggi andremo a vedere in che modo è possibile andare ad osservare tutti quegli oggetti o quegli esseri viventi che non possono essere osservati ad occhio nudo infatti abbiamo intitolato questa lezione esploriamo l'infinitamente piccolo se andiamo a vedere la storia della nascita del microscopio semplice possiamo vedere che il primo ad accorgersi che era possibile con una lente andare ad osservare organismi molto piccoli fu questo signore che come lavoro faceva il mercante di stoffe lui si accorse che poiché venivano impiegate per questo lavoro delle perle di vetro per esaminare in dettaglio i tessuti lui pensò di utilizzare queste piccole sfere per costruire un microscopio rudimentale questo microscopio era fatto da una lamina questo che vedete in figura è un prototipo una specie di modellino fatto con degli oggetti presi in casa quindi delle viti, un pezzo di cartoncino e altri oggetti lui creò un oggetto molto simile a questo che vedete in figura fatto da una lamina di ferro qui in realtà nella figura è dato da un cartoncino una lamina di ferro su cui era praticato un piccolo forellino a livello di questo piccolo forellino lui posizionò questa sferetta di cristallo che veniva utilizzato per esaminare le stoffe in questo modo posizionando poi l'oggetto da osservare sulla punta, su questa punta di ferro e girando la vite e mettendo a fuoco l'oggetto era possibile ingrandirlo ovviamente l'ingrandimento era molto basso però permetteva di ingrandire anche se di poco gli oggetti che si vedevano che si osservavano se andiamo più avanti ci fu Hooke vissuto tra il 1635 e il 1703 che durante l'analisi di alcune lamite di Subero si accorse che queste erano composte da numerose celle se andiamo a vedere la foto tagliando trasversalmente il sugo lui si accorse che era formato da tante piccole celle ecco il nome da questo è derivato il nome cellula ecco perché le cellule del nostro corpo hanno questo nome proprio per il fatto che osservandole al microscopio danno l'impressione di tante cellette affiancate questo è una specie di è un prototipo degli attuali microscopi che vengono utilizzati in laboratorio come vedete è molto rudimentale legato con degli spaghi con gli oggetti che si trovava a portata di mano ma come è fatto il microscopio ottico quello che attualmente viene utilizzato nei laboratori questa è la struttura che normalmente si può osservare in qualsiasi laboratorio di microbiologia di chimica eccetera in questo caso abbiamo soltanto un oculare detto così perché è il punto dove si posiziona l'occhio per osservare l'oggetto ma andiamo a vedere gli oggetti che tutti gli strumenti che viene utilizzati per osservare al microscopio allora questa è la strumentazione tipica abbiamo una piccola spatola un vetrino porta oggetti una pinzetta un contenitore di campioni questo è un vetrino dove già è posizionato il campione da osservare e dove sopra c'è anche oltre al vetrino porta oggetti c'è anche il vetrino copri oggetti che è di forma quadrata ed è leggermente più sottile dell'altro una pipetta quindi un contagocce poi vedremo a cosa serve e poi un adesivo per vetrino andando avanti come si prepara il campione da osservare innanzitutto il campione da osservare deve essere molto sottile perché deve essere molto sottile? perché poiché il microscopio si basa sul fatto che la luce attraversi il campione quindi giunga poi alla lente e quindi all'occhio più sottile è il campione da osservare più la luce lo attraversa facilmente quindi bisogna fare molta attenzione a tagliare il campione in maniera molto sottile con una lametta la tecnica che si utilizza per tagliare perfettamente il campione e farlo molto sottile è quello di praticare un taglio leggermente inclinato in questo modo in questo modo si ha che una parte del campione tagliato è molto sottile quella parte poi la andremo a osservare a microscopio in che modo? innanzitutto col contagocce che abbiamo visto prima va messa una piccola goccia d'acqua sul vetrino porta oggetti dopodiché si aggiunge il campioncino questa parte verde e si copre il tutto con il vetrino copri oggetto questa parte quadrata che vedete il vetrino va posizionato molto lentamente su questa parte in maniera tale da non formare bolle d'aria l'acqua fungerà da collante tra i due vetrini infatti come vedrete posizionando il vetrino copri oggetti sul campione questo aderirà perfettamente e anche se capovolgete il tutto il vetrino copri oggetti non si stacca quindi l'acqua funge da collante tra i due vetrini questo possiamo andare avanti questa è una sezione trasversale di foglia ma possiamo anche andare avanti vediamo al microscopio una foglia di iris allora perché abbiamo considerato una foglia di iris? perché la foglia di iris ha un epidermide che è facilmente separabile dal resto della foglia e quindi possiamo andare ad osservare al microscopio molto bene la struttura dell'epidermide e se andiamo a staccare l'epidermide inferiore della foglia si vanno ad osservare molto bene gli stomi anche ecco qui, questo è un ingrandimento più basso e andiamo ad osservare che qui si oltre a delle cellule che si intravedono delle cellule molto affiancate che sembrano, danno l'impressione di una sorta di pavimento tra queste sono disseminati gli stomi che sono questi un po' più scuri se andiamo a fare un ingrandimento un po' più grande vediamo ancora meglio gli stomi e vediamo anche, riusciamo a distinguere le due cellule di guardia degli stomi queste due, questa e questa questo è un ingrandimento ancora più grande dove gli stomi si vedono molto bene infatti queste sono le cellule dell'epidermide prive di cloroplasti invece queste due sono le cellule di guardia dello stoma che contengono i cloroplasti qui si vede anche che la parte interna delle cellule di guardia è più spessa e resistente quindi quando gli stomi si distendono tendono a far aprire lo stoma quando le cellule di guardia si stendono lo stoma si apre proprio perché c'è questa parte più spessa di queste due cellule qui ancora possiamo vedere ancora meglio la differenza tra gli stomi e le cellule queste allungate qui addirittura in alcune si vedono anche i nuclei questi verdi invece sono i cloroplasti che si vedono molto bene la cipolla questa è una sezione trasversale di cipolla qui si può distinguere molto bene il disco che è il fusto modificato e le squame che non sono altro che delle foglie modificate praticamente questo era il vecchio fusto che si è molto appiattito e accorciato e quindi ha dato vita al disco mentre le foglie poiché il fusto si è accorciato le foglie si sono addossate l'una alle altre dando vita a queste squame se andiamo a vedere al microscopio le cellule di cipolla in particolare l'epidermide di cipolla anche qui andiamo a vedere che possiamo vedere che le cellule si dispongono in maniera da formare una specie di pavimento non c'è spazio tra una cellula e l'altra questo evidentemente per evitare che sostanze o patogeni possano penetrare all'interno tra una cellula e l'altra e quindi entrare all'interno della cipolla non bisogna confondere le cellule dell'epidermide di cipolla con le bolle d'aria come ad esempio in questo caso questa e questa non sono cellule ma bolle d'aria ecco perché bisogna posizionare il vetrino coprioggetti molto delicatamente per evitare la formazione di queste bolle d'aria che possono essere confuse con delle cellule in questo caso si può osservare anche la presenza del nucleo della cellula questa è la cellula questo è il nucleo se andiamo a tagliare un pezzo di una sezione molto sottile di cipolla di patata possiamo osservare che le cellule sono ricche di queste goccioline che non è altro che amido in questo caso le goccioline di amido sono uscite fuori dalla cellula perché le cellule si sono rotte e quindi si osservano molto bene queste goccioline di amido da non confondere con le cellule questa è la cellula mentre questi sono i granuli di amido qui possiamo andare avanti poi c'è questo colorante che a volte spesso viene utilizzato per osservare meglio le cellule al microscopio non è altro che un colorante che va a colorare selettivamente alcune parti della cellula come ad esempio il nucleo e le membrane possiamo osservare anche una sezione di carota al microscopio andando ad osservare la carota che è una radice modificata si osserva la presenza queste parti arancioni non sono altro che i pigmenti della carota detti appunto caroteni questo è un cristallo di carotene per esempio un esercizio molto utile che si può fare in classe con gli alunni è quello di disegnare di vedere al microscopio alcuni tampioni e di disegnarli per esempio andiamo a osservare questo è uno schema che illustra l'esercitazione da fare in classe con gli alunni per esempio possiamo osservare ecco questa è la riproduzione la riproduzione di questi due stomi dell'epidermide di Iris la riproduzione disegnata dove si vede molto bene si vede molto bene le cellule di guardia e le cellule dell'epidermide questa è un'esercitazione che in genere piace molto agli alunni quindi permette a loro di memorizzare più facilmente quello che osservano e poi alla fine possiamo consegnare agli alunni delle schede di verifica per vedere quello che hanno appreso quindi verificare quello che hanno appreso durante le lezioni per esempio la scheda 1 presenta una serie di domande in cui l'alunno deve disegnare quello che osserva descrivere ciò che vede e poi mettere delle crocette e delle domande per esempio di cosa si tratta quale affermazione è vera se le macchie più grosse e scure sono dovute a bolle d'aria o altre eccetera e questo si può fare anche per gli altri campioni quindi avete varie schede una per ogni campione la scheda 3 e anche la scheda 4 e anche la scheda 4